Notizia dell'ultima ora, Netflix ascolta gli utenti e questo dà ragione a quello che sto per dire nel video Cioè, disagi, molti disagi e cavolo, Netflix decide di riadattare, nel frattempo si scusa e toglie il doppiaggio Regà, c'è proprio da dire, tanto! Mi avete rotto le palle in tantissimi, perdonate i miei occhi, io sono stanchissimo, non dormo da ieri Sono stato al premio Tonino Accolla, mi hanno regalato una bellissima maglietta a tema Va bene, ma bando le cazzate Mi chiedono in molti, anche in video, che non c'entrano nulla Cosa ne pensi, Andrea, dell'adattamento di Evangelion? Cosa ne pensi? Beh, vi dirò la mia e mi sento molto in diritto di dirla Perdonate il cappellino, ho dei capelli orribili Allora, io conosco Gualtiero Cannarsi da almeno sei anni Fabrizio Mazzotta da nove Fabrizio Mazzotta ha curato l'edizione in quanto direttore di doppiaggio L'adattamento è stato affidato a Gualtiero Cannarsi Gualtiero si è confrontato nel canale Astronomica Channel Si è confrontato con Dario Moccia, Gio Pizzi e altra gente che non conosco Ah, Victor Laszlo Voglio aprire una parentesi su questa live Gualtiero è un nerd molto fiero E questo ne fa scaturire molti difetti Proprio nerd giappofilo, assurdo e va molto orgoglioso della sua cultura Che a volte sfogge in maniera fastidiosa Lo capisco, lo ammetto Ma in quella live è stato tutto molto ridicolo Intanto sei persone non sapevano reggere un'argomentazione Forse un po' Dario Moccia Ma Gio Pizzi, che è un ragazzo intelligente Faceva quelle battutine sferzanti, acide Come se volesse evidenziare la sua intelligenza Quasi a prendere in giro Gualtiero Capisco che Gualtiero ha acceso un po' il fuoco chiamato Gio Pizzi Dicendo che lui è un superficiale E che non sta attento alle opere E che non ha la sensibilità necessaria Ma Gualtiero è ingenuo in questo senso Lui usa i termini senza cattiveria Però una cosa che ammiro di Gualtiero in quella live È che non ha sovrastato nessuno È stato molto educato e ha fatto parlare tutti Non è andato sopra nessuno, non si è mai alterato Un vero signore, molto educato E questo va detto, onore al merito Facendo la premessa che stimo tantissimo Fabrizio Mazzotta Come direttore di doppiaggio e doppiatore La mia opinione è questa Sinceramente ho trovato carino L'intento di usare un termine come pochitto Riflettendoci se quel personaggio parla in maniera strana Addirittura in maniera bizzarra Ecco, non so come dire In tanti doppiaggi qualcuno parla male Perché è il personaggio a parlare male Gualtiero asserisce che E io ero presente quando lui ha fatto questa figura Perché l'ha fatta a Etna Comics Ha usato il termine giapponese che usa Misato E ha fatto una figura, insomma, un po' bruttina Davanti ai giapponesi che l'hanno guardato come dire Ma che sta dicendo? Erano ospiti se non erro Voglio fare pochi tagli in questo video Ma purtroppo è impossibile Io non riesco Quindi cosa succede in Soldoni? Che Gualtiero asserisce che quello è un termine che inventa Misato Perché parla in maniera strana In realtà si scopre che è un termine dialettale E che non tutti i giapponesi lo conoscono È come un termine catanese Che a Torino non possono conoscere Ma a parte questo Il discorso della Renault Quindi della macchina che anziché sistemata Va restaurata Lo accetto anche E va bene E passi Non sono questi i problemi Che rendono incomprensibile Evangelion Apostolo, Angelo Una cazzata Va bene Ma Gualtiero diventa indifendibile in alcuni punti Nel monologo dell'annaffiatoio Che non sa nemmeno lui difendere Lui non sa difendere quella scelta lì Cioè lui sa di aver voluto dare quel senso Ma non lo sa difendere Lui pensa che magari intervenendo in sala di doppiaggio I doppiatori avrebbero capito meglio Avrebbero fatto le pause giuste No Gualtiero No e tu lo sai Non ne hai l'esperienza Mazzotta Doppia dagli anni 70 Dirige dal 93 È un doppiatore Direttore di doppiaggio Con un'esperienza immensa E ha fatto tantissimi adattamenti Ha curato anche One Punch Man Se non erro Io perché decido di fare questo video ora? Perché Mazzotta si è esposto Era inutile ripetere tutto quello che hanno detto tutti gli altri Inutile Inutile Perché bisognava dire qualcosa di nuovo Di diverso Cosa posso dare io in più di Dario Moccia Di Giopizzi Posso dire Che bisognava parlare di Mazzotta Ragazzi Insoldoni Qual è il problema? Che Gualtiero Va bene che non si cura del pubblico Perché l'opera esisterà Al di là del pubblico Oltre il pubblico L'opera Diciamo Ha una sua immortalità E il pubblico cambia Varia Ma Gualtiero Sinceramente Hai mostrato Poca Sensibilità E sei stato superficiale su un front Non hai tenuto conto dei tuoi colleghi Addetti ai lavori Perché se io sento che i doppiatori si rifiutano Di fare quella cosa Che non ci vogliono mettere la faccia Si vergognano Allora tu stai causando un disagio Perché non capita sempre Una polemica del genere Non capita tutti i giorni Non capita tutti i giorni Che una doppiatrice O un doppiatore Si sentano Mortificati A lavorare alla tua opera Vabbè Alla tua opera Al tuo adattamento Non capita tutti i giorni Che un direttore di doppiaggio Come Mazzotta Debba ricorrere ai copioni vecchi Per capire quelli nuovi Mazzotta asserisce Dichiara Che ha dovuto E lui ha condiviso su Facebook Ste cose Se ne assume la responsabilità Che ha dovuto prendere in mano I copioni vecchi Per tradurre quelli nuovi Per ricordarli Per capirli Cioè Gualtiero Va bene il pubblico Ma se causi disagi Agli addetti ai lavori Ai tuoi colleghi Se crei un caso mediatico immenso Cioè Sei l'uomo del momento Gualtiero Io ti conosco da anni Ma nessuno ti aveva mai considerato Come in questo momento Io ho visto i film dello studio Ghibli Anzi come dice lui Lo studio Ghibli Però Lì ci sta Un discorso di linguaggio complicato Perché Quando guardi un film Ghibli Ti aspetti Che sia complicato Che non sia per tutti E anche se alle volte Risulta noioso e ostico Alcuni film Per l'adattamento Diventano difficili da seguire Va bene Ma Evangelion Non è così Evangelion Poteva avere Lo stesso adattamento Di Berserk L'anime E quello è fatto benissimo È bellissimo Ha un adattamento semplice Arriva a tutti Mazzotta asserisce E questa è una cosa Che in Berserk si vede E in Evangelion No Che un personaggio Può parlare in maniera aulica Ma deve essere comunque comprensibile Ora scusate per il mio modo di parlare Sono stanchissimo Cioè Gualtiero Linguaggio aulico è una cosa Rendere tutto incomprensibile è un'altra Io ti ho visto Ti ho conosciuto E so come sei Cioè Ho capito abbastanza Ho capito che tu sei fiero Della lingua giapponese Tu la ami Tu sei un nerd Della lingua giapponese Ma tu vuoi fare una cosa criminale Tu vuoi portare Tu la vuoi trasporre La vuoi applicare alla lingua italiana Cioè Sei veramente convinto E alle volte sembri quasi presuntuoso Di poter tradurre E riportare fedelmente Meglio di altre Il senso di una cosa Non è così Non è così E per quanto tu possa cercare Di avvicinarti al linguaggio Giapponese Cercando di essere fedele E dandoci il massimo Delle emozioni giapponesi Non ci riesci Ce ne dai di meno Di meno Perché l'italiano Ci dà le emozioni Se io devo guardare Una cosa che deve sembrare giapponese In quel senso Mi guardo allora L'anime in giapponese Con i sottotitoli al massimo Ma no Se guardo un doppiaggio Io voglio la trasposizione Delle mie emozioni Io voglio sentire Un ti amo E deve essere ti amo Non se il mio cuore palpita E riecheggia nell'aria Io ho dei sentimenti Nei tuoi confronti Cioè Che cazzo No E ti amo L'immediatezza Della nostra lingua La bellezza Della nostra lingua italiana Non sei io che tu Che io non potrei Che io non potessi Che tu non faresti Ma che cazzo è Ora senza girarci troppo intorno Perché l'hanno fatto molti youtuber Il senso del video è questo Mazzotta si è esposto E ha detto l'opposto Di quello che hai detto tu Cioè una persona Che lavora con te Che ne sa quanto te Se non più di te Che ha lavorato A molti adattamenti E appassionato anche lui di anime Ricordiamo Fabrizio Mazzotta E la voce di Mignolo E Mignolo è prof Cresti il clown Eros di Pollon Se lui Ti dà contro E ha un'opinione Diametralmente opposta alla tua Fate due domande Magari dovevi arrivare A un compromesso Perché quest'opera Non è fatta per il pubblico Sembra fatta per te Sembra fatta per te Che ne vai fiero E che ti ostini A vederla in questo modo Chi è che gestisce Lo studio Ghibli Non mi ricordo In Italia Che hai diritti La Fandango forse Non lo so Loro sono fieri Del tuo modo di adattare Ma perché vogliono quello Perché so che Proprio lo studio Ghibli Vuole quel tipo di adattamento E fallo lì Ma secondo me Evangelion Doveva avere Un adattamento Più adatto ai giovani Se questo è diventato Un caso mediatico Se ci hanno fatto i meme Vuol dire che questa storia È ridicola E non credere Che questa storia Passerà presto Perché ciò che rimane Su internet E ciò che diventa meme Di internet Rimane negli anni Per molti anni E rimarrà come uno sbaglio Io so che tu sei In realtà umile Sei consapevole Che il tuo modo di tradurre È ostico Ma qui si parla Di aver creato Dei disagi E se li hai creati A gente che lavora con te Gli hai mancato di rispetto Hai pensato solo Al tuo lavoro Non tenendo conto Del fatto che il tuo adattamento E il tuo modo di lavorare Ha danneggiato E ha dato delle difficoltà Agli altri addetti ai lavori Che compongono L'organo doppiaggio Tu hai adattato Ma hai creato difficoltà Al direttore di doppiaggio E ai doppiatori Questo Tienilo in considerazione E magari chiedi scusa Perché Perché è giusto dire Forse ho causato qualche disagio Sì Perché se un doppiatore Per quanto bravo Una domitilla d'amico O gente di questo calibro Ha difficoltà Io ho due domande Me le farei Magari con umiltà Cercherei di venirne a capo Questo è tutto Quindi ripeto Lo posso anche difendere Per l'educazione che ha mostrato Per essere stato un signore Per scelte come Pochitto Per restaurare la macchina Ma non ti difendo Per tante altre cose Faccio concludere Al buon Cristiano Paglionico Che collabora con Anime Click E se non erro Anche con Eva Impact E ci darà la sua versione Dei fatti Lui ci teniamo molto E io con piacere Gli do questo spazio Ragazzi il mio canale è diventato Un po' una puttanella Do spazio a tutti E do spazio a Cristiano E noi ci vediamo Al prossimo video Salve a tutti amici di Youtube Io sono Cristiano Paglionico Ci tengo a ringraziare Calorosamente Ancora una volta Andrea Per lo spazio che mi ha concesso Ci tenevo a dire la mia Anche su questo argomento E infatti vado dritto al punto Gualtiero Io non ce l'ho con te Premettiamo questo Non sono un Twitter Non lo sono mai stato E mai lo sarò Anzi Ci sono certi passi E interi tuoi adattamenti Che sinceramente Non mi vergogno a dire Ho apprezzato Credo infatti di essere Una delle poche persone in Italia Ad aver apprezzato il nome Dato alla divinità Della principessa Mononoke Che non nomino Per non creare casine d'Andrea E se proprio devo essere onesto Adattamenti come Si alza il vento A me non dispiacciono Il problema nel tuo modo Soperandi Nasce in altri punti Nell'adattamento Ciò che deve essere restituito Più che il significato stesso Delle parole È il registro Le emozioni E il contesto Di queste parole Gualtiero ti giuro Tutti Tutti Quelli a cui ho chiesto Che conoscono il giapponese Mi hanno detto Che il registro di Evangelion È molto colloquiale Nel momento in cui abbiamo Questo tipo di linguaggio In originale Non possiamo trasporlo In italiano In un modo aulico Perché andiamo a tradire La stessa operazione Che in teoria vorremmo fare Credo personalmente Che nel momento In cui si vada ad adattare Un'opera Il linguaggio Non debba assolutamente Essere svilito Solo ed esclusivamente Per andare incontro al pubblico Se l'opera Ha un determinato registro Si usa quel registro in italiano Fine Su questo penso che siamo d'accordo Ma non si può Arricchire anche inutilmente Perché questo Ed è un dato di fatto Che è accaduto con Evangelion Ci sono passaggi Veramente di difficile comprensione Cose che non sono neanche italiano Qualtiero stato di furia Non è italiano Testocchili Non è italiano Si è fatta guerra Fino ad entrare dentro Non è italiano E oltretutto Non capisco come mai Adattare Bozo In stato di furia Se poi metti una cosa Come metti l'obiettivo al centro E switch Se il motivo era Rendere tutto quanto in italiano Come tu stesso hai dichiarato Ho apprezzato davvero molto I tuoi interventi in live Per i modi Con cui ti sei posto Ci sono state alcune persone Che ti hanno Ingiustamente provocato E ti sei distinto Per un comportamento Davvero educatissimo E ti ripeto I miei complimenti E i miei applausi Ciò nonostante Sei stato irremovibile Anche su fatti Dove ti hanno Veramente dimostrato Che ti sbagliavi Sul serio Gualtiero Hai fatto un errore E gli errori Li facciamo tutti E credo che non ci sia Niente di male Ad ammetterlo Ciò nonostante Secondo me Sarebbe necessario A questo punto Fermarsi un attimo Guardarsi indietro E capire effettivamente Dove sia sbagliato Con l'augurio magari Di non incappare più Negli stessi errori Come costrutti Troppo faraginosi Parole troppo Desoete E cose che sinceramente Non si capiscono Perché non sono proprio italiane Quindi niente Di nuovo Grazie ad Andrea Per questo spazio Un sincero In bocca al lupo A Gualtiero E alla prossima